Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui continuiamo la nostra panoramica su come è possibile costruire grafi per andare a facilitare la rappresentazione di alcune specifiche relazioni. Abbiamo visto come possiamo andare a fare i confronti e i ranking tra le categorie, tra livelli all'interno di una stessa categoria, come possiamo andare a fare delle, mostrare delle deviazioni rispetto a dei riferimenti, in particolare andare a valutare le deviazioni di tipo pre e post. A questo punto vediamo come possiamo andare a rappresentare quelle che sono le proporzioni parte-tutto. In generale qui stiamo parlando di andare a descrivere quella che è la frequenza di diversi livelli, di diversi valori all'interno di una stessa categoria, andando a sostanzialmente riportarli come parte di un tutto. Quindi se andiamo a considerare tutti il numero di possibili occorrenze dei valori, andiamo a rapportare, andiamo a riportare quella che è la frequenza. Attenzione quando facciamo questa operazione a utilizzare tutti i valori che facciano parte della stessa categoria, quindi a non mischiare parti di diversi tutto. Quindi noi andiamo a mettere tutte le parti di un dato tutto. Noi possiamo utilizzare queste tecniche non soltanto per rappresentare la frequenza dei diversi valori all'interno di una categoria, ma anche per andare a confrontare le frequenze di sostanzialmente stessi valori in gruppi, categorie o misure diverse. Che cosa possiamo utilizzare? Allora, in generale andando a rappresentare un rapporto parte-tutto, tendenzialmente quello che facciamo è andare a utilizzare delle percentuali, che sono facilmente comprensibili dalla maggioranza degli osservatori dei nostri grafici. Possiamo utilizzare dei grafi a barre impilati, quindi uno sopra l'altro, anche se questo rende difficile andare a vedere i valori intermedi, delle aree sovrapposte, dei tree map, dei grid plot, dei diagrammi a torta o dei diagrammi marimecco. Vediamo un po' più nel dettaglio che cosa sono queste diverse tipologie di diagrammi e come possiamo costruirli e quali sono i vantaggi e svantaggi. Un diagramma che utilizza le barre sovrapposte o affiancate, se lo vediamo in orizzontale, è questo, dove andiamo a rappresentare un caso di studio in cui vengono rappresentate le energie, le fonti di energia, fossili per il 18%, rinnovabili per il 19% e nucleare per il 2,5%. Allora, noi abbiamo comunque la barra, abbiamo le altezze delle barre che possiamo andare a confrontare, essendo impilate l'una sopra l'altra non è immediato andare a confrontare una barra con l'altra. Quello che possiamo fare è andare a leggere i valori rispetto a un asse. Il problema è che i valori intermedi, quindi le barre che rappresentano la frequenza dei valori che non sono il primo o l'ultimo, tendenzialmente hanno una base che non è la stessa delle altre, quindi è più difficile andare a valutare l'altezza. Per questo motivo solitamente si riportano anche le percentuali. Attenzione quando andate a costruire diagrammi di questo tipo con dei fogli elettronici, perché ad esempio se voi andate a prendere Microsoft Excel e andate a mettere due valori sì e no con le percentuali 99 e 1%, quello che vi viene prodotto in maniera automatica, se non date nessuna indicazione, è un diagramma che parte sostanzialmente dal 98%. Ovviamente a questo punto ci ritroviamo un life factor enorme perché la percentuale di sì risulta più bassa della percentuale di no, quando in realtà il rapporto è 99 a 1. Possiamo utilizzare i diagrammi a barre impilate, staked, per andare a confrontare diverse frequenze di stessi valori in diverse categorie. Per cui ad esempio in questo caso noi riportiamo diversi misure, in questo caso misure in diversi trimestri di un anno e le vendite. Ovviamente qui abbiamo totali di vendite che variano complessivamente nei quattro trimestri, quindi è molto difficile andare a confrontare i valori. In generale è difficile andare a vedere il valore di un pezzo della barra intermedio e soprattutto quando il totale è diverso è difficile andare a fare i confronti. Per questo motivo solitamente come dicevo prima la raccomandazione è utilizzare delle percentuali. È chiaro che qui non abbiamo il valore assoluto ma se ci interessa anche il valore assoluto tendenzialmente conviene rappresentarlo in un grafico separato e qui andare a rappresentare esclusivamente le percentuali. In questo modo io posso confrontare dei valori vicini in termini percentuali e non dovendo fare il doppio confronto. Un altro modo di rappresentare il rapporto di parte tutto è andare a utilizzare quella che è l'area. È ovvio che se io vi propongo un diagramma di questo tipo senza andare a mettere i valori è estremamente difficile intuire quelle che sono le proporzioni. Probabilmente le ricordate dal diagramma precedente a barre però è estremamente complesso. Per cui se vado a mettere i valori a questo punto è un po' più banale. Qui questo è l'80%, grossomodo questa barra è il 20%, quindi un quinto. Riesco più o meno a intuirlo andando a vedere la larghezza di questa barra rispetto al lato totale dell'intera area però è un'operazione complicata. Per questo motivo una variante di diagrammi ad area è questa dove sostanzialmente vado a rappresentare non più un'area intera ma vado a rappresentare un'area costruita da tanti tasselli. In questo caso io posso andare semplicemente a contare che le caselle sono 10x10 quindi sostanzialmente ogni singola tessera in questo diagramma, waffle o grid a seconda di come vogliamo chiamarlo, rappresenta circa l'1%, quindi il giallo rappresenta, lo facciamo facilmente, sono praticamente quasi due barre tranne 1 quindi 19, questo è un 2 e questo è quello che resta. Il problema è che spesso quando andiamo a sommare delle proporzioni che non sono nette, quindi hanno dei valori oltre la virgola, è possibile che tramite chi in seguito ha una serie di arrotondamenti il totale non faccia 100. Altra modalità di rappresentazione dei rapporti parte tutto è quella che abbiamo tramite i diagrammi a torta che sono probabilmente uno del tipo di diagramma più diffuso. Ne abbiamo già discusso, tendenzialmente non è facile andare a individuare le dimensioni di ciascun elemento, è ovvio che questo grigio è leggermente più di 3 quarti, quindi un po' più del 75%, quello che resta ovviamente è un po' meno del 25%, quindi diciamo intorno al 20, lo intuiamo dall'apertura, con andare a dire che questo è un 2,5 e questo è un 19 è un po' più complicato se non avessimo i valori, ragione per cui in generale la raccomandazione è sempre utilizzare i diagrammi a torta andando a mettere dei valori vicini e in generale utilizzarli esclusivamente quando abbiamo a che fare con un numero limitato di categorie. in generale i diagrammi a torta hanno dei problemi per cui è preferibile non utilizzarli, soprattutto se vogliamo andare a fare una serie di confronti tra stessi livelli in diversi gruppi, in diverse categorie. Ecco, se noi andiamo a prendere questi tre diagrammi a torta e andiamo a sostanzialmente vedere questi sostanzialmente cinque diversi livelli che sono presenti in tutti e tre i diagrammi a torta, se io vi chiedo in questi tre diversi diagrammi qual è quello che ha la frequenza più alta? Qual è quello che ha la frequenza più bassa? Non è così banale. Mentre invece è ovvio andare a rispondere a questa domanda se io utilizzo un diagramma a barre, è ovvio dove c'è quello più grande. Quindi in generale un diagramma a torta, qui abbiamo già cinque categorie che quindi sono forse oltre il limite, quattro tende a essere un limite ragionevole e soprattutto i valori sono molto simili tra di loro, ecco in questo caso un diagramma a torta è di difficile lettura. Non ci permette di fare quell'operazione, quindi la prima operazione è quella di andare a fare la discriminazione e qui riusciamo a distinguere le diverse fette della nostra torta, purché abbiamo a che fare con delle etichette messe vicino, perché se iniziamo ad avere una leggenda separata questa operazione già non è banale. Il secondo passo è quello di andare a fare un confronto, quindi andare a capire chi è più grande e chi è più piccolo. Ecco, quando i valori sono molto vicini capire chi è più grande e chi è più piccolo è estremamente difficile. Per cui se questa è l'operazione che vogliamo fare e se abbiamo valori molto prossimi tendenzialmente è meglio utilizzare un diagramma a barre. È chiaro che se abbiamo le barre di fianco invece che sovrapposte, l'idea del tutto è un po' meno chiara ed evidente, però ci permette di fare un confronto molto più preciso. Una variante di diagrammi a torta sono quelli che vengono chiamati diagrammi donut, in cui sostanzialmente lascio un buco all'interno della torta e vado a rappresentare questa corona circolare, per cui l'ampiezza della corona circolare sostanzialmente mi codifica il valore. Talvolta, quando io devo andare a rappresentare dei diagrammi parte tutto, voglio andare a rappresentare non un'unica categoria, ma bensì la combinazione di due categorie. per cui in questo caso devo avere un diagramma che mi permetta di andare a rappresentare tutto questo. Posso farlo con un diagramma di questo tipo, in cui ad esempio ho una categoria che è in orizzontale, in particolare il tipo di dispositivo, desktop, laptop e tablet, e un altro tipo di categoria che sono qui in verticale, che sono dati dai produttori, le marche che producono quel tipo di dispositivo. E qui l'asse mi dà sostanzialmente il totale. È ovvio che se andiamo a vedere le singole colonne, quindi sui desktop abbiamo Lenovo e Dell, sui laptop abbiamo Dell, Sony e HP, qui abbiamo Samsung, iPad e HTC, quindi è abbastanza facile leggere in verticale. In orizzontale abbiamo invece un altro tipo di divisione che ci dà il numero totale di dispositivi, quindi 8000, 21000 e 19000. Per cui la dimensione totale di questi rettangoli sostanzialmente mi dà la proporzione di quel dispositivo per quel particolare produttore. Questo è il caso più complicato, il caso più semplice invece è quando io ho un'unica categoria e mi interessa andare a vedere le frequenze dei diversi valori, di diversi livelli. Questo lo posso fare ad esempio utilizzando quello che è un diagramma di Pareto, dove ho le varie categorie ordinate a partire da quella più frequente verso quella meno frequente e sovrapposto nello stesso grafico ho un'altra curva che mi va a rappresentare la frequenza cumulativa. Quindi ovviamente il primo punto sarà in comune, man mano che vado avanti inizio a sommare queste frequenze per cui ad esempio so che circa l'80% delle frequenze sta nelle categorie 1, 2, 3, 4. Se voglio raggiungere il 90% di tutti i valori praticamente mi fermo alla categoria numero 6. Le altre complessivamente, ma lo vediamo qua, contano per meno del 10%. Quindi sostanzialmente questi diagrammi parte tutto ci permettono di andare a rappresentare come sono distribuiti, con che frequenza, i valori all'interno di misure di tipo categorico. Noi ovviamente possiamo fare la stessa operazione con variabili di tipo continua. In questo caso parliamo di diagrammi che ci permettono di andare a rappresentare la distribuzione. Anche qui possiamo andare a rappresentare la distribuzione all'interno di un'unica categoria, un unico insieme di valori, oppure andare a confrontare le distribuzioni tra più diverse misure e categorie. Che cosa utilizziamo per fare questa operazione? Utilizziamo spesso gli histogrammi, che sono sostanzialmente dei diagrammi a barre verticali, in cui le varie suddivisioni sono degli intervalli, e l'enfasi in questo caso è dato sul numero di occorrenze. Usiamo dei poligoni di frequenza, che sostanzialmente sono derivati dagli histogrammi, ma invece di rappresentare delle barre ci rappresentano dei punti collegati dalle linee, dove i punti sostanzialmente non sono evidenziati, ma abbiamo una spezzata. In questo caso abbiamo un'enfasi su quella che è la forma complessiva della nostra distribuzione, mentre su un histogramma vediamo più le occorrenze degli singoli intervalli. E abbiamo anche altre tecniche, ad esempio i boxplot o varianti. Gli histogrammi li abbiamo imparati a utilizzare sin dalle scuole elementari, abbiamo una serie di intervalli numerici e qui rappresentiamo quella che è la frequenza. Attenzione, quando utilizzate gli histogrammi, che gli intervalli, il numero, ma anche la loro dimensione, è molto importante perché vi può far cambiare significativamente quello che è la forma di un histogramma. Cerchiamo di capire come funziona, come viene costruito un histogramma. Sostanzialmente un histogramma prevede di andare a suddividere tutto l'intervallo dei possibili valori in una serie di piccoli sottointervalli, che di solito vengono chiamati bin. Tutti questi piccoli bin, quindi vanno da, non so, da 70-72, ad esempio, vengono utilizzati per andare a contare quante volte un valore nell'insieme di dati che stiamo analizzando cade in quel bin. E poi, sostanzialmente, il nostro diagramma di frequenza, istogramma, riporta l'altezza pari alla frequenza di quei valori, del numero di valori che cade in quel bin. Quindi il numero, l'ampiezza e anche l'allineamento dei bin è molto importante. Questo diagramma è sostanzialmente stato fatto con 30 bin, quindi l'intervallo è stato diviso in 30 sotto piccoli intervalli. Però se noi andiamo a cambiare questo numero di bin, ad esempio, lo riduciamo a 13, ecco che la nostra forma cambia completamente. Cambia decisamente il livello di dettaglio, quindi abbiamo meno della metà dei bin, quindi avremo degli intervalli più larghi, e quindi avremo una descrizione meno dettagliata della nostra distribuzione. Però tenete conto che anche variando di un solo bin, passando da 13, ad esempio, a 14, ecco che ottengo una distribuzione che è abbastanza diversa. Quindi è importante andare a scegliere la dimensione, il numero di bin, il loro allineamento, in modo da avere quella che è una rappresentazione fedele. Esiste un modo standard? Solitamente 30 è un numero ragionevole di intervalli, ma dipende molto da quello che voi volete andare a mostrare, come voi sapete essere fatta la vostra distribuzione di dati. Qui c'è veramente un dettaglio che è lasciato in mano a chi progetta il diagramma. Una variante dell'istogramma è quello che abbiamo detto essere un poligono di frequenza, dove sostanzialmente andiamo a disegnare quella che è una spezzata e ogni punto che separa un tratto dall'altro sostanzialmente riporta la frequenza in un particolare intervallo. Anche qui abbiamo dei bin, quindi anche qui vale il discorso che abbiamo fatto un attimo fa per l'istogramma. Ovviamente qui abbiamo un dettaglio molto fine. Più aumenta il numero di bin, più abbiamo la descrizione molto dettagliata di quella che è la distribuzione. Talvolta però a noi non interessa il dettaglio, a noi basta una rappresentazione molto sommaria di quella che è la distribuzione. E questo è ciò che viene fatto tramite un diagramma che si chiama boxplot. Che cos'è un boxplot? È un diagramma che sostanzialmente sintetizza la distribuzione utilizzando per l'appunto questo rettangolo, il box, con due buffi. Che cosa rappresentano questi valori? Beh, sostanzialmente l'estremo di un buff rappresenta il valore massimo, l'altro estremo il valore minimo e poi l'estremo superiore della scatola rappresenta il terzo, l'estremo inferiore rappresenta il primo quartile e in mezzo abbiamo la mediana che è anche chiamato il secondo quartile. Oltre a questo c'è un meccanismo che permette di andare a identificare quelli che sono gli outlier, ovvero i valori che sono molto all'esterno dell'intervallo ragionevole. Cosa succede? Come viene calcolato un outlier? Allora, sostanzialmente esistono vari meccanismi. Quello che viene utilizzato molto più spesso è di andare a prendere la mediana, la distanza interquartile e poi andare a vedere tutti i valori che distano dal quartile inferiore o superiore più di tre volte o cinque volte a seconda di quanto vogliamo essere stringenti o permissivi in termini di outlier. Quindi questo valore qui è decisamente oltre tre volte la distanza interquartile da questo quartile, dal primo quartile. e quindi è stato classificato come outlier. Quindi il valore minimo e il valore massimo vengono calcolati una volta esclusi gli outlier. Quindi in questo modo noi abbiamo una sintesi molto semplice di dove sta il grosso dei valori perché metà dei valori sostanzialmente sta in questo intervallo, quindi tra 75 e 80. Un quarto dei valori è sparso tra 80 e 95 e un altro quarto dei valori è sparso tra 75 e 60. Ovviamente questa è una descrizione molto molto compatta che può essere utile per avere una visione d'insieme. Se vogliamo avere una visione d'insieme ma un po' più dettagliata, quello che di solito viene fatto è di andare a utilizzare un altro tipo di diagramma che è quello che si chiama un violin plot. Nel violin plot sostanzialmente abbiamo, come nel caso del nostro box plot, il valore massimo e il valore minimo, ma poi all'interno abbiamo quello che è un poligono di frequenza sostanzialmente specchiato. Ovviamente essendo disegnato così piccolo non abbiamo la possibilità di andare a vedere tanti dettagli quanto un poligono di frequenza che rimpe un grafico, però comunque ci dà un'idea di come sono messi i nostri valori. Volendo possiamo anche andare a combinare un violin più un box plot andando a riportare i dati e quindi dettagliarli molto meglio. Quindi abbiamo sostanzialmente la possibilità di andare a vedere dove sta il grosso di una distribuzione, quindi qui vediamo che c'è il primo e il terzo quartile, e poi andare a vedere tutti gli altri valori. Come faccio a combinare queste diverse distribuzioni per andare a rappresentare quelle che sono distribuzioni multiple? In generale un istogramma non è molto facile, perché se io inizio a mettere due istogrammi inframezzati è molto difficile andare a identificare i valori e quindi a fare un confronto accurato. Quello che posso fare al massimo è andare a utilizzare una coppia di diagrammi a barre, quindi di istogrammi divergenti. In questo modo io riesco ad andare a apprezzare una distribuzione e l'altra messe una fianco all'altra e quindi posso andare a vedere ad esempio che qui nell'intervallo tra 40 e 44 anni ci sono meno donne e tendenzialmente ci sono più uomini. Quindi ho una serie di distribuzioni e quindi posso confrontarle. Ovviamente questo tipo di diagramma è utile se io ho due distribuzioni. Se ne ho di più non posso affiancarle, ovvero posso metterne tante uno di fianco all'altro, ma sono difficili da osservare. Per quanto riguarda il poligono di frequenza, che spesso viene riportato come un poligono pieno colorato, se io lo uso, quando ho più distribuzioni, tendenzialmente quello che faccio è di andare a rappresentare queste distribuzioni come semplicemente il poligono senza l'area disegnata sotto. O almeno se la disegno devo andare a dare un certo grado di trasparenza in modo che si possa vedere come si comportano le distribuzioni sottostanti. Un modo molto più standard e utilizzato per andare a confrontare più distribuzioni è quello di andare a mettere tanti boxplot. Effettivamente i boxplot sono stati pensati per poter fare un confronto tra distribuzioni. Quindi vediamo molto bene come tre diverse distribuzioni, qui una frequenza elettorale in vari orari, possono essere rappresentate. Quindi vediamo come questa distribuzione di valori è molto più bassa ed è incentrata intorno al 25, questa è intorno al 70 e questa chiaramente intorno al 75. Quindi vediamo dove sta il grosso dei valori e vediamo quanto sono sparse e sovrapposte. Quindi queste due distribuzioni sono evidentemente abbastanza sovrapposte, mentre invece la prima è abbastanza distinta, è molto separata nettamente dalle altre due. Ovviamente possiamo fare la stessa cosa con dei violin plot, un vantaggio di avere tanti boxplot è che io li posso utilizzare per andare a rappresentare molte categorie. Per cui, ad esempio, se io ho diverse categorie, ad esempio, questo è un grafico che riporta il risultato di un sondaggio in cui sono riportati, ovviamente per i due generi, maschi e femmine, quello che è il reddito. E inoltre c'è una distinzione in termini del tipo di educazione che si è ricevuto, quindi nessuna, quindi quella di base, scuola, un'educazione vocational oppure un degree, nel senso una formazione di scuola, di università, scusate. Iniziamo a vedere, ovviamente, una tendenza che va verso l'alto, quindi salendo il grado di istruzione sale anche quello che è il reddito, ma vediamo anche quello che è purtroppo un fatto che è abbastanza frequente, ovvero il fatto che la retribuzione delle donne è più bassa di quella degli uomini. per chi segue questo corso, quindi probabilmente studenti in ingegneria, se andate a vedere le ultime statistiche, questo gap è decisamente più ridotto e se andiamo a vedere lo storico, per fortuna si sta riducendo molto, quindi tendenzialmente il gap che noi abbiamo effettivamente nel mercato del lavoro tra uomini e donne, soprattutto per la professione di ingegneria, è un qualcosa che è ridotto e si sta ancora ulteriormente riducendo. Stesso tipo di diagramma, stesso tipo di dati, noi lo possiamo rappresentare, ad esempio andando a utilizzare un violin plot, che ci dà un dettaglio ancora più fine di quello che è la rappresentazione. Ovviamente molto spesso io non sono interessato a andare a rappresentare tutta la forma della mia distribuzione, a me basta semplicemente andare a dire dov'è il valore medio. È chiaro che però solo il valore medio mi dà un'informazione che è decisamente limitata e non mi permette di apprezzare come io posso andare a descrivere alcuni aspetti molto di dettaglio. scusate, se noi non eliminiamo il dettaglio che abbiamo qui nel violin plot piuttosto che nel box plot, che cosa abbiamo? Se rappresentiamo esclusivamente la media di questi diversi gruppi di valori, quello che otteniamo è questo. Sì, abbiamo una certa informazione, ma molto meno su quanto i valori sono più ampi. Una via di mezzo, quindi non dare semplicemente la media, o la mediana se preferiamo, è quello di andare ad esempio a rappresentare quelli che sono degli intervalli di incertezza. normalmente che cosa faccio? Utilizzando delle tecniche statistiche, sono in grado di andare a capire dove, con più probabilità, si trovano i valori dove sono localizzati la maggioranza dei valori. Quindi vado a rappresentare l'intervallo come una coppia, spesso di trattini verso l'alto e verso il basso, che mi dicono quanto sostanzialmente si estende la maggior parte dei lavori, dei valori che fanno parte di quel gruppo di dati. Attenzione che ci sono diverse tecniche per andare a rappresentare gli intervalli di confidenza, per cui ad esempio una tecnica è quella di andare a rappresentare con dei punti, o in questo caso con delle barre, questo trattino, e quindi mi dà l'intervallo di incertezza, un'altra è quella di andare ad esempio a rappresentare con dei valori sfumati che invece mi danno dove è più probabile che si trovi il valore. L'articolo che ho citato qua riporta un esperimento in cui la precisione di quanto veniva percepita l'ampiezza dell'intervallo di incertezza era sostanzialmente più alta in questo secondo caso, quindi con la sfumatura. Purtroppo è difficile andare a trovare un pacchetto software che sia in grado di rappresentare gli intervalli di incertezza in quel modo. Un altro tipo di rappresentazione che noi possiamo fare è quello di andare a rappresentare una distribuzione di valori e frequenze, ma seguendo quella che è una scala molto ben definita. Molto spesso quando noi andiamo a rispondere ai questionari, alcune domande sono fatte andando a dare una frase e andando a chiedere a noi qual è il livello di accordo o disaccordo che proviamo nei confronti di quella particolare affermazione. Le risposte ovviamente sono su una scala molto limitata, quindi da decisamente no a decisamente sì. Poi possono essere più o meno ampie queste variazioni, ma sostanzialmente questa è l'idea, quindi abbiamo un estremo negativo, un estremo positivo e valori intermedi. Come facciamo a rappresentare questo? Beh, una tecnica che possiamo utilizzare è quella di andare a utilizzare un diagramma barre impilato, ma non semplicemente a partire da zero, ma bensì utilizzando delle barre divergenti per andare a rappresentare quelli che sono i valori positivi da un lato e quelli che sono i valori negativi dall'altro. In questo caso il grosso vantaggio è che noi andiamo a leggere su un estremo delle barre complessivamente quanto è il gradimento, quindi quanto è il numero di pareri sostanzialmente positivi. Questo è preso dal questionario a cui rispondono gli studenti dopo la fine degli insegnamenti, quindi le varie domande sono su una scala di quattro livelli, quindi decisamente no, più no che sì, più sì che no e decisamente sì. Quindi vediamo come alcune risposte sono decisamente positive. L'estremo negativo invece ci permette di andare a identificare quali sono i casi critici, per cui ad esempio questo è un caso abbastanza critico. Questi, le conoscenze preliminari piuttosto che il carico di lavoro, sono degli altri aspetti che possono essere considerati più negativi. Altri sono chiaramente, avendo un valore decisamente positivo, meno importanti. Quindi in questo modo abbiamo la possibilità di andare a rappresentare un particolare tipo di insiemi di valori, che sono chiaramente ordinali, su una scala fatta in maniera divergente. In questo modo andando a evidenziare risposte positive, risposte negative e andando a rappresentare anche quello che è la distribuzione complessiva sui quattro livelli o più livelli a seconda del numero di risposte che sono possibili. Un altro tipo di relazioni che noi possiamo andare a rappresentare sono le relazioni che prendono dei valori quantitativi e cercano di metterli in relazione tra di loro. Un caso particolare è quando noi abbiamo uno di questi valori quantitativi che rappresenta un istante temporale, per cui abbiamo quelle che si chiamano delle serie temporali, in cui vogliamo andare a rappresentare il cambiamento, l'incremento, il decremento, la fluttuazione, crescita, decrescita, l'andamento generale e quindi possiamo andare a identificare diversi aspetti. In generale, quando andiamo a rappresentare una serie temporale, la convenzione più comune è quella di far crescere il tempo da sinistra verso destra e questa è una convenzione culturale abbastanza comune. Li possiamo utilizzare in diversi modi, possiamo andare a utilizzare delle linee, linee più punti oppure delle barre. Quali sono vantaggi e svantaggi? Allora, la rappresentazione più comune è quella che utilizza delle linee, eventualmente con i punti. La presenza dei punti che effetto ha? Ha l'effetto sostanzialmente di andare a enfatizzare alcuni valori specifici. Ovviamente noi possiamo utilizzare i punti se il numero di campioni nel tempo è abbastanza limitato. Se abbiamo tantissimi campioni, i punti a quel punto oscurano la linea e quindi tendenzialmente è preferibile utilizzare semplicemente una linea, sempre che i valori non siano troppo fluttuanti. E allora la scelta tra utilizzare linee o punti è abbastanza difficile, quindi deve essere valutata caso per caso. E' ovvio che in alternativa ai punti io potrei andare a utilizzare delle barre. Il problema è che le barre devono avere una base zero, quindi questo asse parte da zero, quindi non riesco a apprezzare bene le differenze. Inoltre, quando utilizzo delle barre, la mia attenzione si focalizza sui singoli valori più che sull'andamento globale. Confrontate questa visione con quella del diagramma precedente. Qui io vedo chiaramente l'andamento, leggermente in calo e poi una crescita significativa con un piccolo calo qua. E qui, sì, vedo il piccolo calo qua, dovuto anche al differente intervallo che ho sull'asse, ma soprattutto vedo i singoli punti, non riesco a apprezzare bene l'andamento. Quando io ho tanti andamenti nel tempo, soprattutto se ho una questione di frequenze, quello che posso utilizzare è anche uno stream graph, ovvero un grafo che rappresenta le frequenze di diverse categorie nel tempo, che sono rappresentate una sopra l'altra e mi permettono di andare a vedere, di andare a apprezzare la frequenza globale, quindi il numero di occorrenze globali, e il numero di occorrenze di ogni singola categoria. In generale, quando abbiamo a che fare con più valori quantitativi, quello che faccio è di andare a rappresentare la correlazione. E quindi quello che di solito viene fatto in questo caso è quello di andare a utilizzare quello che si chiama uno scatter plot, ovvero un plot in cui io vado a spargere i punti in funzione delle loro posizioni rispetto ai due assi x e y. A questo punto alcune raccomandazioni quando io devo andare a fare questo tipo di diagrammi, che sono probabilmente quelli a cui siamo abituati più comunemente, perché in ambito scientifico e matematico il piano cartesiano è utilizzato tantissimo. Allora, i punti sostanzialmente devono essere abbastanza grandi da essere notabili. Se sono troppo piccoli non riesco a identificarli, quindi non riesco a seguirli. Se rappresentano categorie diverse, devono avere delle forme chiaramente diverse. E in generale devo andare a bilanciare opportunamente le dimensioni dei punti con le dimensioni del grafico complessivo. Un problema che io ho molto spesso, soprattutto se ho tanti punti, è che sono difficili da identificare. Per cui, se in punti non sono tantissimi, sono tanti ma non tantissimi, io posso andare a utilizzare una etichettatura per andare a identificare le categorie dei singoli punti. Quindi qui, ad esempio, c'è la relazione tra l'affluenza elettorale nel 2013 e l'affluenza elettorale nel 2018, con qui la linea tratteggiata che rappresenta la linea con pendenza 1, quindi il caso in cui l'affluenza sia esattamente la stessa nei due casi. Quindi vediamo che in un paio di casi è molto simile. Nella maggioranza dei casi, tranne alcune eccezioni, abbiamo un'affluenza maggiore. Quindi io posso utilizzare linee di riferimento, ad esempio questa che è quella con pendenza 1, per capire dove peggiora, dove migliora, e soprattutto mi interessa andare a vedere i singoli valori, che cosa sono, e quindi posso utilizzare delle etichette. Ovviamente questo è possibile se io ho un numero limitato di punti, altrimenti le etichette diventano sovrapposte l'una all'altra. Quando io ho tanti punti ho anche un altro tipo di problema che è quello dell'overplotting, ovvero il fatto che ho dei punti che sono potenzialmente sovrapposti e quindi è difficile andare a distinguere, e soprattutto non riesco a capire quanti punti sono concentrati in una particolare area. Come faccio a risolvere questo problema? Allora, vediamo un esempio molto semplice. Ho i dati dell'esempio di prima sull'income e il tipo di educazione. Ovviamente io ho tantissimi punti sovrapposti in regioni molto limitate. Ovviamente qui io non riesco a capire quanti punti sono e dove sono esattamente. Come faccio a risolvere il problema? Beh, una possibile soluzione è quella di usare dei punti molto più piccoli. Quindi io riesco ad andare a distinguerli l'uno dall'altro, riesco a vedere dove sono più densi e dove sono meno densi. Questo però funziona fino a un certo punto, perché non posso ridurre troppo i punti, altrimenti non riesco a vederli assolutamente. Quindi un'altra tecnica che posso utilizzare è di avere invece di punti e forme piene, delle forme che hanno semplicemente il contorno. Per cui in questo caso i punti sovrapposti riesco comunque a notarli meglio e quindi vedo dove ho densità più alte e dove ho densità più basse. Ovviamente questo funziona fino a un certo punto, ma quando ho tanti punti comunque non mi permette di apprezzare la densità dei punti. Un'altra tecnica che posso utilizzare è quella della trasparenza, quindi invece di utilizzare semplicemente il contorno dei miei punti o qualunque altra forma utilizzo, vado a rappresentare delle forme piene, ma con un certo livello di trasparenza. Per cui sostanzialmente quando ho i punti isolati, questi risultano abbastanza trasparenti, chiari, dove ho una densità più elevata di punti, ho dei colori più scuri, dove ho la densità più bassa di punti, o dei colori leggermente più chiari, fino al caso del punto isolato decisamente più chiaro. Questo è utile quando io ho tantissimi punti molto densi e quindi riesco a vedere dove i colori sono più intensi, quindi dove ho una densità più elevata di punti. Un'altra tecnica che posso fare, se soprattutto non ho la necessità di avere una posizione precisa, è quella che si chiama la tecnica del jittering, ovvero posso andare ad aggiungere un po' di rumore, quindi andare a spostare i punti da dove dovrebbero comparire effettivamente, in modo da evitare che questi si sovrappongano. Di solito quello che viene fatto è di aggiungere un valore casuale a ogni singolo punto. Nel caso specifico, io qui ho utilizzato il jittering andando a spostare i punti rispetto alla verticale. In questo caso invece, la posizione verticale, quindi lungo questo asse, è rispettata perfettamente. Quindi quando io ho dei gruppi vari, io posso andare a rappresentarli in questo modo per andare a rappresentare, se vogliamo, una sorta di distribuzione. In effetti è abbastanza frequente vedere una tecnica di questo tipo in cui io ho i punti con il rumore, quindi me li sposta rispetto alla loro posizione della categoria, e mostrare questo tipo di rappresentazione sovrapposta, ad esempio, a un box plot oppure a un violin plot. Se io però non sono interessato ai singoli punti, ma più all'andamento generale, quello che faccio è di andare a utilizzare una combinazione di punti e linee, oppure esclusivamente delle linee. Ricordatevi che la pendenza è un qualcosa che io non riesco ad apprezzare tanto bene, però se voglio avere l'idea generale di come è l'andamento, quindi se è in crescita, se è altalenante o altro, probabilmente è molto meglio utilizzare semplicemente delle linee invece di utilizzare dei punti. Inoltre le linee possono essere utilizzate per andare a rappresentare quella che è una regressione, che mi permette ovviamente di rappresentare un modello matematico di quelli che sono i miei dati. Infine, se io ho due categorie, quello che posso fare è di andare a utilizzare delle coppie di diagrammi a barre divergenti che quindi riescono a darmi un'idea di come i valori sono correlati tra di loro, soprattutto se la tendenza di 1, se io rappresento uno dei due diagrammi ordinato, come l'altro segue oppure evidenziano una serie di eccezioni. A questo punto è opportuno fare una puntualizzazione su un aspetto che noi abbiamo sostanzialmente tralasciato o comunque lasciato implicito, ovvero come vado a codificare gli aspetti che riguardano le categorie. Ad esempio, in questo diagramma noi abbiamo due categorie che sono rappresentate tramite due colori diversi. Come possiamo andare a fare questa codifica combinata con i grafici che abbiamo visto finora? Vi ricordo che quando abbiamo a che fare con le categorie, gli attributi grafici che posso utilizzare, visuali che posso utilizzare per andare a codificarle sono quelli che vediamo illustrati qua, dove alcuni, le posizioni, la dimensione e l'intensità di colore e in parte la saturazione possono essere utilizzati per andare a rappresentare delle misure che sono di tipo ordinale. Cosa vuol dire dire? Sostanzialmente, noi possiamo utilizzare la posizione, quindi la posizione lungo un asse mi permette di andare a codificare le diverse categorie, possiamo andare a utilizzare il colore, quindi diversi colori che rappresentano diverse categorie o gruppi di misure. Possiamo andare a utilizzare ad esempio la dimensione. La dimensione mi permette di andare a rappresentare una categoria che è ordinale. Io non riesco ovviamente, l'abbiamo visto più volte, a rappresentare delle diverse dimensioni che abbiano un rapporto facilmente leggibile. Posso utilizzare la forma di punti, lo stile delle linee, perché quindi se utilizzo linee invece di punti posso usare lo stile, ad esempio continuo tratteggiata. Se ho delle forme pieni posso utilizzare ad esempio lo stile di riempimento. Ecco, in generale quando voi avete a che fare con diagrammi, diciamo, vecchio stile, talvolta capita di avere a che fare con diagrammi che utilizzano delle linee obliche da una parte, dall'altra, orizzontali o verticali. Ecco, purtroppo quando noi andiamo a osservare queste linee tendiamo a percepire un effetto di movimento che non è naturale, quindi in generale quando voi dovete utilizzare più colori che soprattutto non possono essere resi, perché magari pensate di dover andare a stampare, ecco, tendenzialmente è preferibile evitare una rappresentazione di questo tipo e andare piuttosto a utilizzare dei livelli di grigio. Ad esempio come questo. Molto spesso capita di avere a che fare con più variabili da mostrare e allora è comodo andare a tradurre una di queste variabili da una variabile quantitativa in una discreta andando a fare quella che di solito viene chiamata una quantizzazione, ovvero vado a identificare una serie di intervalli, i bin che ad esempio posso avere utilizzato per andare a fare un istogramma e assegno a ogni bin, a ogni intervallo un valore diverso. A questo punto questi sono abbiamo ottenuto quella che è una variabile ordinale. Un uso di questa tecnica è in quello che noi chiamiamo gli heatmap perché prendono spunto dalle mappe di calore che vengono fatte andando a vedere il livello di radiazione. Vediamo questo esempio. Allora, questo esempio riporta sostanzialmente sull'asse X gli anni, sull'asse Y rappresenta invece gli stati degli Stati Uniti d'America e il valore che è stato quantizzato tramite una serie di livelli di colore è il numero di casi di morbillo. measles. In più abbiamo qui un riferimento questa linea nera che corrisponde all'anno in cui è stato introdotto il vaccino. La cosa che è immediata osservare è come dopo l'introduzione del vaccino nel giro di pochi anni il numero di casi si è ridotto tantissimo. Con buona pace dei Novavax. Qual è il problema di questa quantizzazione? Il problema di questa quantizzazione è sostanzialmente come è stato fatto il mapping tra i valori e i colori. Ad esempio qui possiamo vedere che io passo da 0 a 1000 casi passando tra una serie di colori dall'azzurro al verde al giallo all'arancione. Soprattutto i valori molto alti hanno praticamente dei colori che sono molto simili tra di loro. Inoltre se io guardo questa mappa capisco che il verde viene dopo l'azzurro e il giallo viene dopo il verde ma se ignoro questa barra questa leggenda che trovo qua è difficile andare a capire se il verde viene prima o dopo il giallo inoltre vedete che qui la transizione dal giallo all'arancione è molto continua mentre invece la transizione dal verde al giallo è molto netta quindi da un punto di vista percettivo io ho alcuni valori che sono che in base a una variazione molto piccola mi danno una percezione molto diversa ad esempio dal giallo al verde e altri che per una uguale variazione o addirittura superiori mi danno una percezione che è sostanzialmente continua e meno immediata oltre al fatto che questo tipo di colori danno dei problemi di percezione seria a chi ha ad esempio problemi di cecità al colore per questo motivo molto spesso è preferibile invece di utilizzare una palette diciamo di tipo arcobaleno andare a utilizzare una palette che usi un'unica tinta e sfrutti la luminosità e la saturazione per andare a codificare i colori ecco questo fa esattamente la stessa operazione di prima l'unica differenza è che sostanzialmente i colori sono tutte variazioni dell'arancio e è chiaro dove abbiamo tantissimi casi dove ne abbiamo di meno e dove praticamente non abbiamo più casi in questo caso non ho problemi di capire quale colore viene prima quale colore viene dopo perché i colori più intensi rappresentano valori più alti i colori più teni rappresentano valori più bassi e soprattutto non ho problemi per chi ha per chi soffre di cecità al colore perché uso un'unica variante anche chi non percepisce correttamente questo colore comunque lo percepirà alterato ma manterrà comunque una percezione corretta in termini di saturazione e di luminosità quindi questo è un modo di andare a rappresentare più variabili combinate dove una variabile non è più rappresentata in maniera continua come ad esempio può essere una lunghezza o una posizione o un asse ma bensì è stata quantizzata ed è stata riportata in termini di livelli di colore in cui io posso percepire esclusivamente l'ordine ma non riesco a fare un rapporto di quantità per cui ad esempio è difficile andare a capire qual è il rapporto tra questa intensità di arancione e quest'altra riesco a percepire l'ordine ma non la relativa dimensione con questo abbiamo sostanzialmente esaurito la nostra veloce e incompleta panoramica su come andare a rappresentare diversi tipi di relazioni visuali in termini di grafie e tipi di grafici il prossimo elemento riguarderà un qualcosa che abbiamo già visto ma su cui non abbiamo focalizzato l'attenzione ovvero gli elementi di supporto gli assi le leggende i titoli elementi che sostanzialmente non codificano direttamente le informazioni ma servono per aiutare nella lettura del grafico sostanzialmente parliamo degli assi delle tacche sugli assi dell'area del grafico quindi ad esempio le griglie che sembrano a leggere meglio i dati delle etichette le leggende tutte le linee o gli altri simboli di riferimento e la possibilità di avere più grafici combinati in uno solo iniziamo a parlare degli assi normalmente gli assi servono per andare a posizionare gli elementi principalmente i punti o comunque altre forme che io voglio andare a disporre o per andare a leggere con più facilità il punto estremo di una barra oppure di una linea un aspetto importante è andare a etichettare sempre gli assi in modo che si sappia a cosa si riferiscono eventualmente anche a riportare quella che è l'unità di misura in generale quando ho un diagramma gli assi dovrebbero essere due è chiaro che è possibile che in alcuni casi particolari ci sia anche un unico asse oppure che un asse sia sostituito da quello che è il principio di continuità le tacche sugli assi devono essere fatte in maniera appropriata ovvero non devono andare a oscurare gli oggetti che io rappresento nel grafico quindi ad esempio se io ho delle tacche molto prominenti che magari entrano dentro l'area del grafico queste potrebbero andare a disturbare la lettura quindi tendenzialmente dovrebbero stare fuori e in generale non vengono usate delle tacche quando io vado a rappresentare delle categorie ad esempio le regioni piuttosto che una serie di valori di una misura categorica ordinale il numero di tacche normalmente deve essere arragionevole quindi non deve andare a oscurare il grafico non deve essere difficile andare a distinguere una tacca dall'altra e ovviamente in generale gli intervalli tra una tacca e l'altra dovrebbero essere normalmente equispaziati l'unica eccezione in questo caso è quando io ho a che fare con scale che non sono lineari ma ad esempio sono logaritmiche un problema che noi dobbiamo affrontare spesso è quando abbiamo a che fare con più di due variabili quindi abbiamo tre o più variabili ad esempio ho due misure prese in certi intervalli di tempo quindi ho sostanzialmente una misura che è il tempo più le altre due valori che vengono misurati in certi istanti di tempo in questo caso spesso ho a che fare con più unità di misura o più modi di andare a interpretare le variabili quindi come posso andare a rappresentarli allora una tecnica che viene usata talvolta è quella di usare una doppia scala ad esempio in questo caso specifico sulla sinistra abbiamo il GDP quindi il prodotto interno lordo e sulla scala di destra abbiamo quello che è l'indice di Gini ovvero un indice che mi dà il livello di disuguaglianza e su l'asse orizzontale abbiamo il tempo questo è una rappresentazione di dati che avevamo già visto in esempio in una lezione precedente che riporta in diversi anni per diversi presidenti i dati relativi al Brasile del prodotto interno lordo e di quello che è il livello di disuguaglianza ora questa è una possibile rappresentazione dei dati ma ovviamente io le due scale le posso allineare e scegliere il range in maniera molto diversa per cui esattamente gli stessi dati potrebbero essere rappresentati anche in questo modo in cui vediamo un andamento quasi piatto dell'indice di Gini e una crescita forte di quello che è il GDP per cui ci sono modi diversi di rappresentare gli stessi dati un altro aspetto importante è che è difficile e spesso ambiguo andare a associare una serie di valori alla scala destra piuttosto che a sinistra possiamo utilizzare colori diversi ma questo non è immediato quindi oltre ad avere una scelta arbitraria di quelle che sono le due scale abbiamo anche il problema di capire bene a quale scala a quale delle due scale fa riferimento per cui l'uso della doppia scala è un qualcosa che tendenzialmente è molto meglio evitare è sicuramente è sicuramente meglio andare a utilizzare più grafici in questo caso i grafici sono allineati quindi abbiamo esattamente la stessa scala per gli anni e per ogni anno abbiamo in un grafico il valore dell'indice di Gini e in un altro grafico invece quello che è il prodotto interno lordo in questo modo la scala tendenzialmente non è arbitraria di solito scelgo una scala che mi rappresenta l'intero range di valori che assume questa variabile in entrambi i casi e quindi non ho una scelta arbitraria che possa andare a enfatizzare o ridurre variazioni differenze inoltre quello che spesso succede quando utilizzo una doppia scala è che a un certo punto ho i miei due grafici che si incontrano ecco quindi dove si forma la x normalmente l'occhio dell'osservatore viene attirato e immagina che possa succedere qualcosa però ovviamente l'incrocio avviene qua piuttosto che qua oppure in nessun punto in funzione di quella che è la scelta delle due scale per cui tendenzialmente ripeto è molto meglio utilizzare più grafici opportunamente allineati tra di loro un'altra alternativa è quella di andare a rappresentare la variabile temporale in maniera implicita quindi qui riporto il prodotto interno lordo e qui l'indice di Gini dove vediamo che tendenzialmente i vari punti che rappresentano i vari anni in cui sono state misurate queste due grandezze evolvono nel tempo e mentre c'è un'oscillazione tra l'indice di Gini e poi una decrescita abbiamo sostanzialmente quello che è un andamento continuamente crescente per quanto riguarda il prodotto interno lordo quindi in generale in presenza di più variabili da rappresentare la scelta è quella di andare a rappresentarle in tanti grafici diversi con una tecnica che viene chiamata dei piccoli multipli si utilizzano anche il termine trellis lattice o grid trellis è il traliccio che viene usato ad esempio per far arrampicare le piante arrampicanti o per andare a separare due proprietà sostanzialmente con questo termine si indicano un insieme di grafi che sono opportunamente allineati che quindi condividono le scale gli assi e rappresentano diversi insiemi di variabili un esempio di piccoli multipli è quello che vediamo qua dove abbiamo sostanzialmente il tasso di disoccupazione dal 2004 al 2015 per diversi paesi e vediamo come il tasso può variare e comunque è variato in diversi paesi in generale abbiamo almeno soprattutto quelli dove il tasso è più alto una crescita in altri abbiamo un andamento che è sostanzialmente stabile e quindi vediamo chiaramente come questo varia ovviamente se andassero a presentare questi dati in un unico grafico sarebbe un grosso pasticcio quindi in generale l'importante è che io mantenga gli assi allineati quindi l'asse X l'asse Y in questo caso è esattamente lo stesso per tutti i grafici e posso andare a utilizzare più in questo caso misure diverse per cui qui c'è il tasso di disoccupazione giovanile e questo è il tasso di disoccupazione a lungo termine dove andiamo a vedere gli andamenti delle diverse in questo caso diversi stati un altro caso tipico che può succedere quando devo andare a presentare dei dati è l'uso di scale logaritmiche perché utilizzo le scale logaritmiche? allora le utilizzo per diversi motivi innanzitutto perché quando ho dei valori molto grandi e molto piccoli questi tendenzialmente possono sembrare molto affollati soprattutto sui valori piccoli perché un unico valore grande schiaccia tra di loro degli altri valori che sono invece più piccoli e posso utilizzare le scale logaritmiche anche per andare a sfruttare alcune proprietà dei logaritmi che mi permettono di leggere in maniera più immediata alcune caratteristiche su una scala logaritmica rispetto a una scala lineare quindi sostanzialmente se io utilizzo una scala lineare mi ritrovo se ho tanti valori piccoli tutti i valori schiacciati l'uno sull'altro mentre invece i valori grandi sono tendenzialmente molto sparpagliati tra di loro se io rappresento gli stessi casi utilizzando una scala logaritmica quello che ottengo è che tutti i valori piccoli che quindi erano raggruppati qui sono invece molto più distanziati tra di loro e quindi riesco ad apprezzare meglio i singoli punti che invece qui è impossibile andare a identificare mentre invece i valori più grandi invece di essere molto distanti l'uno tra l'altro sono decisamente più vicini quindi quello che è un raggruppamento dei valori bassi e una spaziatura enorme dei valori alti viene modificata da questo tipo di scala che invece mi sfarpaglia un po' di più i valori bassi e mi raggruppa quelli alti questo mi permette spesso di andare ad apprezzare meglio i singoli elementi quindi di fare quella operazione che è la discriminazione tra un punto e l'altro che invece nel caso di una scala lineare tendenzialmente è impossibile un'altra proprietà interessante dell'uso delle scale logaritmiche è che mentre su una scala lineare io ho delle differenze uguali quando ho una differenza assoluta uguale qui se passo da 100 a 180 a 325 ho una differenza di 80 qui e di 144 qua e quindi queste due differenze tra la terza e la seconda e tra la seconda e la prima barra sono chiaramente diverse nella scala logaritmica ho una differenza uguale quando la variazione percentuale è uguale quindi un aumento dell'80% qui e un aumento dell'80% qui sono visti sostanzialmente esattamente allo stesso livello quindi questo mi permette di andare a rappresentare in maniera molto più lineare e chiaramente uguale quelli che sono dei delle variazioni percentuali dello stesso livello della stessa entità un esempio interessante di uso delle scale logaritmiche è ad esempio quello che ho utilizzato in questo diagramma che rappresenta il numero di casi di infezioni confermate da coronavirus in vari paesi ovviamente ci sono alcuni paesi qua su in alto che sarebbero ovviamente molto sparpagliati quindi parliamo qua di 60.000 qui parliamo di view di 30.000 e questi valori sono sostanzialmente sarebbero molto sparpagliati invece sono raggruppati e i valori bassi in questo caso sono sostanzialmente espansi quindi un altro aspetto interessante è che questa linea tratteggiata mi rappresenta la pendenza che avrei quando ho un aumento del 33% dei casi di volta in volta quindi quando ho degli aumenti che sono più legati a percentuali rispetto a variazioni assolute ecco che una scala logaritmica mi dà la possibilità di rappresentarli esattamente in maniera più semplice seguendo una linea retta per quanto riguarda l'area del grafico invece alcune raccomandazioni sono possibili in generale è bene utilizzare un aspect ratio quindi un rapporto tra larghezza e altezza che non distorca troppo le dimensioni normalmente i grafici sono leggermente più larghi di quanto sono alti esattamente come i nostri monitor quindi un 2 terzi un 4 terzi le linee le griglie che io rappresento in generale devono essere molto sottili e leggeri quindi chiare in modo da non andare a coprire quello che è il grafico ma dare semplicemente quel minimo di supporto per poter leggere con una precisione migliore i valori in generale per quanto riguarda le etichette bisogna mettere i titoli più importanti grossi e nei posizioni dominanti per quanto riguarda le leggende l'abbiamo già detto è bene andare a utilizzare degli attributi che non siano rappresentati sugli assi devono essere quanto più possibile vicini agli oggetti che rappresentano e se possibile è meglio andare a utilizzare un direct labeling piuttosto di usare una leggenda decisamente separata in generale ricordiamoci che il numero di possibili variazioni che abbiamo di un attributo è intorno a 5 8 e quindi questo è un limite a quante diversi elementi posso rappresentare in un grafico ricordiamoci che è preferibile utilizzare tanti grafici piccoli piuttosto che tanti dati in un unico grafico grande qui abbiamo alcuni esempi di leggende che usano delle forme diverse ovviamente è molto meglio utilizzare un direct labeling o addirittura andare ad accompagnare una codifica tramite forme dei simboli con anche un colore tenete presente che il direct labeling può essere applicato anche a altri tipi di grafici per cui ad esempio se abbiamo un diagramma a barre ovviamente io non posso andare a mettere la leggenda vicino a tutte quello che posso fare è andare a mettere un'etichetta su ad esempio la prima coppia di barre e poi per somiglianza per similarità io posso andare a dedurre che tutti viola saranno indiretti e tutti gli arancioni sono diretti a questo punto quello che possiamo fare è fare alcune considerazioni su una tendenza che si vede abbastanza che è quella di andare a utilizzare dei diagrammi con le tre dimensioni allora ci sono due casi particolari un caso in cui le tre dimensioni sono utilizzate per andare a codificare dei valori quindi ho sostanzialmente una proiezione di tre dimensioni che codificano tre variabili diverse oppure posso andare a utilizzare la terza dimensione non per motivi di codifica ma sostanzialmente per andare a dare alcune decorazioni aggiuntive quando io ho un meccanismo di codifica abbiamo già visto che la terza dimensione ci dà delle percezioni alterate perché se io vado a confrontare la cima di una barra con la cima di un'altra posso andare a non notare bene dove inizia la base della barra giusto per l'effetto della proiezione quindi rischio di avere una percezione un confronto molto alterato inoltre posso avere delle barre che sono sostanzialmente nascoste da altre in questo caso è decisamente preferibile andare a fare un'altra codifica che eviti la terza dimensione l'uso di più grafici multipli può essere una soluzione l'altro caso quello dell'aspetto decorativo invece sostanzialmente non ha nessuna utilità in termini di codifica e non fa altro che alterare la percezione per cui quello che è normalmente preferibile fare è prendere questi dati e andarli a riportare su due semplici dimensioni ottenendo quella che è una rappresentazione molto più corretta e più facilmente percepibile quindi in realtà per aspetti decorativi ho semplicemente un'alterazione per aspetti di codifica ho una percezione che non è spesso corretta per cui la raccomandazione è in entrambi i casi evitare i diagrammi in tre dimensioni e cercare di riportarli su due semplici dimensioni con questo abbiamo sostanzialmente concluso la nostra panoramica su linee guida per andare a costruire dei grafici il passo successivo quindi sarà quello di andare a capire come posso andare a valutare i dati che uso per costruire questi grafici e quindi andare a valutare i loro aspetti di qualità e quindi capire se li posso utilizzare per andare a trasferire delle informazioni che siano utili e corrette